Io nelle Stark Industries ci voglio assolutamente andare Ma stiamo scherzando, ma è meraviglioso Siamo appena morti in un modo bescero e meschino Chi sono? Chi sono? Ma non importa Devo davvero dire che Fortnite è tornato ad essere divertente Non so come abbiano fatto, ma ce l'hanno fatta Mi sa che qua da Tony Stark atterra un sacco di gente Il problema principale è che io non so qual è l'atterraggio corretto da sviluppare per vincere una partita Non ho armi, non ho armi, via, fuga, ora ce l'ho Questo è morto, dai Preso Oh, c'è un bot Ok Via, 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 via Devo assolutamente bere questo Mo' investiamo qualcuno, raga Ok, l'ho fregato questo Qua c'è un bunker, raga Oh! Maledetti bot mi fanno una paura pazzesca Mi ha laserato Via di qua Ok Non so come faccio ad essere vivo, sinceramente Ciao, bello Vivi per miracolo Prima di andare in giro Diamo un'occhiata Hola Capite quanta poca vita ho? Se mi sparano un colpo sono morto Aiuto Una cassa Finalmente ragazzi Pazzesco Che fatica per avere un medikit Dobbiamo pure andarcene via di qua Vabbè, vicino Oh Yes Thank you so much Non ho scudo Non ho niente Direi che ce ne andiamo Quello Ma quello è Iron Man, raga Oh Ha anche il mio uno sparalizer Ah, ciao Iron Man Posso dire aver preso Iron Man con un grappler Mi sa che mi serve questa Che ne dite? Quello per volacchiare Via, 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 via di qua Via! Praticamente sto facendo esplorazione ragazzi Cioè io non sto giocando a Fortnite Sto scoprendo Fortnite Considerate che non sapevo manco ci fossero le Stark Industries Siamo atterrati qua Abbiamo aperto il vault Che ho trovato per sbaglio Distruggendo tutto per sbaglio Chissà se dentro poi potremo andare anche da qualche altra parte Almeno mi dovete dare però tutto quanto quello che mi serve Ok, per esempio la pozione è a 50 Non è che è buona De più Qua da là Chug Splash Il pompa ce l'abbiamo Via, 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 via Ma vi pare che sto utilizzando una supercar Mentre gioco a Fortnite È incredibile Tutti coloro che avevano problemi ad arrivare in zona sicura Compra un'auto su Fortnite Codice creatore Stepney Il problema è risolto Si è ingolfata però In acqua mi sa che non vanno bene Ciao Il fucile laser leggendario credo sia completamente scorretto Dobbiamo raggiungere Slurpee Swamp Ci sono tipo tre aildrop Qua stanno combattendo E io voglio le Killang Mi sta mirando Lo sapevo No mi ha rubato la Kill Me l'ha stilatissima Ma dai È un'arma a doppio taglio Questa cosa di svolazzare Ho capito Oggi prendiamo le mazzate su Fortnite Tutto è tornato come una volta Fantastico Ulala E che siamo diventati Noi la segretaria Ti metterò questo zainetto E continueremo a giocare Ultima partita Inutile dirvelo ragazzi Noi torniamo alle Industrie Stark Oggi è giornata Industrie Stark Per forza Comunque essenzialmente Non ho capito bene Cos'è successo Cioè quel pezzo di terreno Che in realtà Non sarebbe dovuto esistere Che è mezzo incastonato Nel terreno Per l'appunto Della mappa normale Ed è arrivato al niente Non so se c'è un videoclip O qualcosa che ci racconta Direzione Stark Industries Ovviamente È un buon atterraggio Il nostro L'unico problema È che come al solito Io non so Dove sono di preciso Le armi Forse riesco a prendere Quella sul tetto Beh sarebbe incredibile È già un fucile a pompa Bella roba Tutto fantastico Mi piacerebbe un sacco Quella è stato ucciso Aspettiamo di capire Chi l'ha ucciso Guardate cosa c'è là Mi butto dai Via Epla Chiudiamoci qui Che ci sono gli scudi Non chiedetemi come sia possibile Abbiamo trovato pure qui No 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 Ma guarda che casino Mi ha fatto Questa cosa Che rimbalza Scusè Da là c'è uno Ma cosa ho fatto Ci sono veramente Tanti bot raga Guarda là Io ancora raga Devo ambientarmi Ho visto Tony Stark Dentro Ricordatevi che lui è il laser Ci vuoi morire Ci vuoi morire O no Qualcuno in macchina laggiù Ma che sta succedendo raga Dobbiamo eliminare Tony Stark Prima che decidano di curarlo Eccolo lì che sta scappando Cane Oh Ma quello è enemy Capite quanto è devastante adesso Per piacere Manca solo un lama ragazzi L'unica cosa che non sono riuscito a trovare Guarda che roba Ma ti rendi conto che devo uscire da un parcheggio Tra l'altro in contromano Ma sì Ma sì Chi se ne frega Bella Vado ad aprire il bunker Vado a prendere le armi tutte Oh Questi Stavano aspettando me Che è successo Questi sono quelle che si stavano inseguendo prima Ovviamente nessuno aveva la chiave Perché la chiave ce l'ho io Qualcuno è ancora qua dentro Ad aspettare che qualcuno Oh Me l'ho detto che secondo me uno era qua ragazzi C'era veramente pazzesco 2000 granate voleva farmi esplodere Il potere di Iron Man è veramente forte Benvenuti in questo giro Alle Stark Industries Potete notare il reattore nucleare La base principale di Iron Man Iron Man è stato ucciso Oddio Dimenticavo di dirvi che sta accanto a un dirupo Ci sono le strade Che ne dici Usiamo le strade Invece di fare Pazzo No No C'ha le ganache Non si parcheggia senza il bigliettino Oh c'è la benzina Posso imbenzinare l'auto? Io non lo sapevo questo Non l'avevo mai fatto Che ganzo Vedete c'è andata molto di culo in realtà Ehi là Porca miseria I'm the god C'è la mitra di delta leggendaria Su tizio Mi ha colpito una volta sola E l'ho distrutto Cioè quando ho switchato al fucile d'assalto Gli ho preso quell'headshot Boom A casa Torno pure indietro a recuperare Ovviamente la mia terza pozione E 50 Perché questa partita ragazzi Cascasse il mondo E voglio il codice creatore qua Assolutamente sì Questa partita la vinciamo Come caspita levo la musica dalla macchina Sto arrivando Bello Non mi spara Che cosa è successo? Ma qualcuno deve darmi una spiegazione Ma ne è imploso il palazzo Da solo E te la vinciamo No Non è vero Stanno succedendo cose assurde Ma questo nuovo Fortnite Mi piace veramente tanto Ragazzi mi raccomando Lasciamo un bel mi piace Commentare Iscrivetevi Attivate la campanellina Il codice creatore Stai per interno Il negozio di Fortnite Taggatemi a più non posso Perché i video sono tornati finalmente sul canale Noi ci vediamo nel prossimo video Qua è sempre tutto Primo video una vittoria Secondo video due vittorie Terzo video tre sconfitte Ci sta Ci sta Noi ci vediamo